Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Noi che usiamo Lightburn. Questo è un video un po' particolare. Perché particolare? Perché praticamente tratterò due argomenti che uno è conseguenziale all'altro. Allora, nelle scorse giorni c'è stato un post che ha avuto molti commenti sul gruppo Facebook Noi che usiamo Lightburn per una lavorazione un po' particolare. Adesso vi faccio vedere il post qual'era e cosa chiedeva il nostro iscritto al gruppo Facebook. Cioè, come si fanno certe lavorazioni? Allora, io avevo scritto in privato a questo amico dicendogli guarda, se aspetti qualche giorno farò un video per farti vedere come io farei una lavorazione del genere. Però, per poter fare una lavorazione del genere, siccome sapete che ho da poco cambiato il laser, ho dovuto fare prima due piccole modifiche al laser che ho installato e che mi è andata a sostituire il mio vecchio laser. Laser che ho installato di recente è un Acmer P1S Pro da 6 Watt. Perché ho dovuto fare delle modifiche? Ho dovuto fare due modifiche perché per me sono fondamentali per fare certe lavorazioni. Infatti, quel laser, come avete visto nel video che vi metto su e che avevo messo sul canale la settimana scorsa, era senza AirAssist ed era senza automatismo dell'AirAssist. Per me sono due cose molto importanti, specialmente l'AirAssist. L'automatismo, vabbè, male di poco andare a cliccare un interruttore per far partire l'AirAssist, però la comodità è bella, mi piace. E l'avevo fatto con il mio vecchio laser, sia con la scheda a 8 bit che con la scheda a 32 bit e sono voluto andarlo a fare anche qua. Adesso vi faccio vedere. Ecco, come vedete, quello sulla destra è il compressore di Acmer che è un caso che io avessi avuto quello perché l'avevo comprato un anno fa, prima ancora che ricevessi questo nuovo laser che vi dicevo prima. Allora, praticamente cosa ho fatto? Non ho fatto altro che andare a mettere questo supporto con l'ugello che spara l'aria. Il supporto, questo qui che vede che fa anche da schermo, è uguale, identico al laser che avevo prima, quindi praticamente al modo che avevo prima. Ho collegato questo tubo facendo con delle fascette a questo corrugato che mi porta, diciamo, l'alimentazione del tubo, del cavo, scusate, del laser e quindi non ho fatto altro che sistemare quello. Quindi è stato molto semplice farlo, mi sono voluti solamente pochi minuti e quindi ho messo l'air assist che ritengo fondamentale. L'altra cosa che ho fatto, sono andato a fare una modifica andando a mettere il relay, vedete questo cavo che entra nella scheda madre, quindi nella centrale con la scheda madre e qui in questa scatolina io ho il relay che mi comanda l'accensione tramite il light burn dell'air assist quando necessita, quindi vado a spostare nei livelli air e mi va a, praticamente se è selezionata, mi va a dare aria, altrimenti no. E questa era una cosa che ritenevo necessaria. E' una cosa molto semplice da fare con questa, diciamo, con questa scheda perché ci sono già i pin collegati. Adesso vi faccio vedere la foto della scheda. Per accedere alla scheda è molto semplice, basta togliere quattro vitine che sono sul retro della scheda stessa, quindi dell'alloggiamento della scheda e si toglie il coperchio e si può accedere alla scheda vera e propria. E come vedete ci sono alcuni connettori che sono liberi. Quelli che vedete sono al centro circa, sulla vostra destra, gli ultimi, c'è scritto cool. Cool vuol dire coolant, cioè refrigerante, che praticamente sono quei pin che ci servono per poter andare a connettere il relay come vi ho già mostrato in un video che vi metto sopra e basta mettere una morsettiera, diciamo così, un pin che va a inserirsi in quello slot dove sopra c'è il voltaggio più, in mezzo c'è il voltaggio meno e in fondo c'è il segnale. Facendo riferimento al video che vi dicevo prima. In quel modo lì basta inserire un pin a tre poli con quella cosa, andare a mettere in impostazioni periferica, andiamo a mettere il, ve lo faccio vedere adesso, andiamo a mettere in, andiamo qua in impostazione periferica, andiamo qui su M7 e il gioco è fatto. Praticamente è molto semplice, quindi riferitevi a quel video che vi dicevo per poter fare questa cosa. E diciamo che così ho rimesso il laser praticamente nelle condizioni come era il mio vecchio, quindi con Airassist e Airassist automatico, quindi spendendo praticamente nulla. Nulla nel senso che il relay costa pochi euro, vabbè l'Airassist ce l'avevo già, va bene qualsiasi compressore, non ci sono problemi e fare il collegamento del tubicino non è assolutamente un problema. Ma andiamo a vedere che lavorazione mi era stata richiesta. Vi faccio vedere il post, e questo è il post che era stato messo sul gruppo dicendo come facciamo a fare questa lavorazione con un'incisione che è perfettamente bianca. Allora ci sono stati tantissimi commenti, ci sono state tantissime soluzioni, quasi tutte erano giuste, ovvero sia c'erano delle soluzioni che erano effettivamente diciamo pratiche e veloci, alcune erano un pochino più macchinose, c'è addirittura chi usava siringhe eccetera eccetera per andare a fare dei certi riempimenti e io ho voluto dare la mia versione. Adesso vi faccio vedere come ho fatto io. Ecco, qui sul piano di lavoro di Lightboard vedete il progetto che ho fatto io, ovvero sia un paio di orecchini che hanno al centro un disegno di mandala. Allora, come ho fatto? Il mandala l'ho scaricato, lo dico francamente, l'ho scaricato da un sito per fare prima, per fare questo disegno. Dopodiché ho preso del laminato che praticamente adesso vi faccio vedere quello che è rimasto il laminato, ho preso proprio un ritaglio che avevo di laminato che è questo, vedete, è molto piccolino perché giusto mi stavano quei due orecchini. L'aluminato è molto sottile, sono 0,6 mm all'incirca, si taglia veramente bene. Ecco, e qui vedete la fotografia del laminato tagliato. E vedete anche come è preciso, perfetto, tenete conto anche le dimensioni sono veramente piccoli perché mi sembra che siano 34 mm di altezza tutto l'orecchino, per cui pensate a ogni singolo elemento di quel mandala quanto è piccolo. Forse tanti non arrivano nemmeno al millimetro. Mi piaceva perché effettivamente con questo tipo di laser e con un punto che ha abbastanza piccolo, più piccolo rispetto magari a quei laser molto potenti, riesce a fare molto molto bene queste lavorazioni. Quindi diciamo che le peculiarità dei laser variano un pochettino anche dalle varie potenze. Io sono un amante delle potenze abbastanza basse perché riesco a fare delle lavorazioni molto fini, molto delicate, con poco contorno di bruciacchiato, chiamiamolo così, che è sinonimo di potenza, un pochino più grande. Anche perché per questi lavori sono talmente piccoli che non è che richiedono tantissimo tempo, per cui possiamo lavorare tranquillamente anche con laser di poca potenza. La prima lavorazione che ho fatto è quella, quindi praticamente ho lavorato con tutto in linea, vediamo livelli, vi faccio vedere livelli che sono livelli di taglio, no non è questo perché è questo un altro taglio che ho fatto poi in seguito, e quindi praticamente ho intagliato questo qui ma ci si mette veramente pochissimo tempo. Poi cosa ho fatto? Il secondo passaggio che ho fatto è stato quello di andare a cambiare il livello ai mandala, quindi al disegno e gli ho dato un T1. Perché? Perché mi serviva solamente il supporto della cosa, quindi mi serviva solamente il contorno. Il contorno è tagliato su multistrato e poi lo tinto di bianco con una bomboletta spray di acrylic spray. Ecco, qui vedete quattro pezzi, quindi due pezzi di laminato e due pezzi del multistrato. Dopodiché ho dato al multistrato una leggera, utilizzando un pennellino, proprio un pennellino da pittore, ho dato una piccola passata di colla vinilica e poi ho incollato le due facce, questi due pezzi, mettendoli tramite due piccoli cartoncini in morsa con queste mollette che io uso molto per tenere fisse le piccole cose. Si trovano in cartoleria e sono molto utili perché sono piccoli e sono veloci, specialmente per il materiale che utilizziamo noi con il laser. Fatto questo, è stato proprio semplice andare a mettere le montature per gli orecchini e terminare la lavorazione degli stessi. Come vedete, vi faccio vedere anche la foto del lavoro finito, l'impatto e il contrasto tra il bianco sottostante e il contorno del piallaccio è riuscito abbastanza bene. Allora, questo era un esercizio di stile per farvi vedere come lavoro io. Io lavoro molto con questi piallacci perché si fanno delle intarsi, si fanno delle cose, sapete che non è che amo molto far vedere il lavoro che faccio, però mi piace farvi vedere come si possono anche fare determinate lavorazioni. E questo era il mio modo, poi non dico che gli altri sono errati, questo è come lavoro io. Quindi a questo punto io ringrazio voi per avermi sopportato fino a qui, ringrazio anche Acmer perché mi ha dato la possibilità di utilizzare questo laser che lavora abbastanza bene, anzi lavora bene per la potenza che ha, lavora molto bene. e vi chiedo di mettere un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto perché ci tengo, a voi non costa nulla, ve l'ho già detto tante volte, iscrivetevi, ci vuole poco, campanellina così sarete sempre aggiornati sui prossimi video e vi do appuntamento, stagione permettendo, impegni permettendo, miei e vostri, sicuramente tanti di voi andranno in ferie, io non ci vado quest'anno purtroppo per altre cose, però diciamo che sarò sempre qua a rispondere quando mi fate delle domande magari su Messenger oppure sui commenti oppure sul gruppo Facebook e vi auguro buone vacanze perché ci va, buona permanenza a casa perché non fa le vacanze e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e arrivederci a breve.